E' ancora negativo il bilancio per l'anno 2014 per l'artigianato e piccola media impresa. I dati messi in evidenza dal CNA che ha presentato oggi il rapporto su tutte le imprese al di sotto dei 10 addetti mette in evidenza che il settore che in Toscana pesa per circa 9 miliardi di fatturato è ancora in sofferenza. In particolare i settori che tradizionalmente hanno sempre fatto più fatica. Sono i settori che ormai da anni stanno soffrendo, il settore delle costruzioni, il settore anche dei servizi alle imprese e poi tutto quel mondo che intorno alle costruzioni ruota e siccome è un mondo molto vasto quindi i settori che stanno soffrendo sono ancora tanti. A soffrire tutte le province toscane la CNA chiede alla politica un impegno più incisivo. Chiaramente la regione deve fare la sua parte. L'incisività delle politiche economiche sono un fattore complesso che fa carico a più soggetti. Se la regione fosse l'unico soggetto responsabile delle politiche economiche del territorio avremmo una complessità. Fortunatamente la Toscana è ben altro. La Toscana è un'economia avanzata, competitiva, dotata di risorse, di esperienze, di capacità di competere sui mercati mondiali. Il settore dell'artigianato purtroppo insieme ad altri sta ancora scontando le fatiche di una lunga crisi economica sistemica che gradatamente forse inizia solo ora a dare i primi segnali di una possibile inversione di tendenza. Noi come regione, come istituzioni, faremo la nostra parte cercando di spingere il mondo delle piccole e medie imprese, degli artigiani che sono una delle ricchezze, delle risorse vere della Toscana, verso una maggiore aggressività.